Due tragedie in pochi giorni, due vite appena sbocciate, stroncate da anomalie che anche la medicina fatica a comprendere e spiegare. Domenica a Villanova di Coglia al Metauro è morto nella sua culla un bimbo di appena sei mesi. In tarda serata i genitori si sono infatti accorti che il loro secondo genito aveva smesso di respirare e la disperata chiamata al 118, intervenuto repentinamente con due ambulanze, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ora l'autopsia all'ospedale Santa Croce di Fano cercherà di dare spiegazioni sul decesso. Si sospetta un raro soffocamento susseguente a un rigurgito. Altro indicibile dolore per una coppia di Urbagna il cui neonato è morto 50 minuti dopo la nascita all'ospedale di Urbino. Una nascita avvenuta con una gestazione e un travaglio regolare. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta indagando cinque medici, due ostetriche e due infermiere dell'ospedale per accertare il fatto risalente una settimana fa. Si cerca di fare luce sui motivi dell'improvviso affanno respiratorio e si cerca di comprendere se c'è stata o meno una negligenza alla base del decesso. Il primario di ginecologia urbinata Leone Condemi, che nel giorno in questione non era presente, ha definito l'evento di una rarità assoluta. Sono infatti state effettuate tutte le pratiche di rianimazione di rito coinvolgendo a distanza pure lo staff specializzato del Salesi di Ancona.